Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi spiegherò dove trovare la cassaforte e la combinazione per lo shop Jasmine. Questa è una delle due casse forti di cui vi ho parlato che avevo dimenticato di mostrarvi. Per fortuna avevo un salvataggio vecchio, quindi questo video posso mostrarvelo. L'altra cassaforte purtroppo no, spero di poterla fare in futuro magari con la nuova partita plus. Dove trovare il codice? Allora vi mostro l'intero percorso. Una volta che arrivate qui praticamente, entrate in questo negozio. Vi anticipo che nel piano alto ci sono due infetti. Quindi salite le scale, girate, vi abbassate e ammazzate i due infetti. Potete spararli tranquillamente da sdraiati. Una volta fatto questo, andate qui, prendete bene la rincorsa, altrimenti cadete giù, entrate in questa stanza, vi girate e raccogliete il documento dove è riportata la password. Adesso vediamo dov'è la cassaforte. Rieccomi. La cassaforte è qui dentro, quindi sparate al vetro per romperlo, entrate dentro e raggiungete la cassaforte. La combinazione è quella riportata sul documento, ossia 68, inserisci 96, inserisci 89 e la cassaforte è aperta.